Con l'associazione Crescere in un progetto importante che riguarda Officina 104. Siamo insieme ai ragazzi di Officina 104, siamo insieme anche alla dottoressa Faustina Bertollo, presidente di Crescere, per scoprire un progetto nuovo. Ma un progetto nuovo che insiste sulla inclusione e insiste come inclusione il fatto che anche noi che ci possiamo considerare cittadini di questo luogo che è Subbiano, ma non soltanto, perché questo è un progetto di inclusione a tutto tondo per tutta Italia, possiamo anche partecipare e cercare di creare qualcosa per un territorio. Non sarà soltanto il territorio di Subbiano che vediamo qui, ma sarà naturalmente un territorio più ampio, è il territorio della conoscenza, questo credo che sia la cosa fondamentale. Allora, un progetto che nasce? METE. Allora, il progetto si chiama proprio METE per l'inclusione con il doppio senso, cioè METE come punto di raggiunta, quindi come meta, e ME e TE perché siamo due persone che si possono incontrare in un territorio. Il progetto nasce per dare la possibilità ai ragazzi di conoscere il proprio territorio, rendersi parte attiva, ma soprattutto vederlo con occhi diversi e far vedere agli altri quello che loro vedono, dando poi delle pillole di consigli attraverso quindi l'elaborazione multimediale, quindi con la creazione di virtual tour, ma anche di podcast narrativi, delle conoscenze del loro territorio, quindi curiosità, piuttosto che no gastronomia, parte naturale, luoghi di cultura, dando appunto in piccole pillole di massimo tre minuti, tre, quattro minuti, alla possibilità a chi si avvicina al nostro territorio di conoscerli in anteprima e di vedere che cosa lo aspetterà poi in una gita proprio effettiva. METE, o METE se vogliamo, in questo caso è questo progetto in cui siamo chiamati noi però anche a collaborare, fornendo dei contributi. Sì, il progetto ha una piattaforma quindi di crowdfunding con la Fondazione Il Cuore Si Scioglie dell'Unicoop Firenze insieme a Eppela. La campagna è attiva fino all'8 novembre, si può donare da 10 euro fino a quanto uno vuole attraverso la piattaforma in una maniera molto semplice, con la carta di credito o le carte prepagate, ma anche c'è il tasto bonifico per chi non vuole donare, quindi utilizzando le proprie carte elettroniche. E si può fare anche la raccolta in modo offline, quindi senza la piattaforma, partecipando agli eventi che vengono realizzati sul territorio. Il prossimo sarà il pranzo domenica di 16 alla bocciofila di Bibbiena, dove tutto il ricavato va a sostegno di questo progetto e poi ci sarà un'altra scena organizzata qui nel territorio di Subbiano, precisamente a Vogognano, il 29 di ottobre. Adesso scopriamo che cosa andiamo a realizzare con questo progetto METE. Cioè nel senso di dire, ma in realtà è qualcosa che ne può soffrire davvero tutta una collettività, grazie naturalmente all'inclusione a tutti questi ragazzi di Officina 104? Vi faccio vedere che davvero è possibile, perché basta scoprire il talento di ciascuno. Sì, allora noi abbiamo fatto delle prove, abbiamo visto che facendo le nostre giti, i nostri percorsi, loro sono veramente bravi a scoprire tutti gli angoli che magari sfuggono nella prima osservazione. Mi piace molto la fotografia e soprattutto una cosa che accomuna tutti i giovani è ovviamente l'uso del mezzo elettronico. Unendo tutte queste cose e con l'ausilio ovviamente di un programma, si possono creare dei virtual tour usufruibili da tutti in maniera molto semplice. E allora scopriamo per esempio, insieme a Davide, insieme a tutti i suoi amici e colleghi, come si può fare ad andare a conoscere Subbiano con questo progetto, quando sarà naturalmente concluso. Vedete, intanto c'è subito associazione di volontariato, quindi ODV Crescere di Subbiano. E la storia è una mini guida creata da ragazzi dell'associazione Crescere per conoscere questo paese, cioè Subbiano. E lo possono conoscere tutti quanti. Sì, l'idea è proprio quella poi di metterli in rete, una volta terminati, quindi verranno messi in rete sia sul sito dell'associazione, ma anche a tutte le amministrazioni che ne faranno richiesta. Quindi ci sarà il link, dove cliccando sul link si apre la piattaforma dove vengono caricati questi virtual tour, quindi usufruibili da tutti. E allora, possiamo scoprire qualcosa legato proprio a Subbiano, come sarà questo virtual tour, quindi questa mini guida? Qui blocchiamo magari l'audio, vediamo un po'. Ecco. Praticamente questa l'abbiamo creata scoprendo Subbiano in sette giorni, quindi facendo una cosa al giorno e cercando di conoscere bene il territorio. Quindi il primo giorno, quindi, c'è come si arriva a Subbiano, ovviamente, per chi non è della zona, quindi il percorso e cosa io posso trovare. Poi c'è la visita del centro storico, Subbiano è un bellissimo centro storico, quindi ci sono degli angoli che sono veramente molto carini, le fotografie scelte dai ragazzi, dove cliccando sulla parte, appunto con il ditino, appare proprio una finestra che ti dà la spiegazione dello scorcio di quella fotografia. Quindi c'è anche un lavoro di ricerca da parte dei ragazzi, quindi è un'ampliare le loro conoscenze, ma soprattutto anche le loro competenze, perché ovviamente devono imparare a ricercare, a estrarre il materiale, a copiarlo, incollarlo, e quindi cercare di fare tutto in completa autonomia. È chiaro che c'è sempre la supervisione degli educatori, oggi ne abbiamo con noi due, proprio stamattina qui con noi, appunto perché serve il supporto, quindi non è che fanno tutto in autonomia, però loro scelgono, effettivamente la scelta di quello che vogliono mettere è la loro e deve essere la loro. Allora, prima di proseguire, conosciamo i due educatori, chi abbiamo? Abbiamo Silvia e Alex. Ecco, e quindi naturalmente voi siete così degli aiutanti, diciamo così, per realizzare questo virtual tour, giusto? Sì, assolutamente, e siamo sempre più contenti ogni volta che appunto ragioniamo, pensiamo e mettiamo anche in pratica quello che appunto è l'obiettivo, quindi cercare di far conoscere il territorio, in questo caso appunto del Casentino, con i loro occhi. Ed è sempre una bellissima esperienza, perché sono appunto in grado di trovare dei dettagli e di interpretare anche dei luoghi in maniera appunto bellissima e sorprendente anche per noi. Bellissimo, di un'esperienza che ormai tu vivi da diversi anni. Sì, esatto. E grazie a loro vediamo cose molto diverse, però ci aiutano a capire in particolar modo la vita, com'è. E loro riescono a vedere il mondo in maniera diversa, ma anche migliore di noi, perché tendiamo sempre a correre, a vedere le cose con superficialità, e invece grazie a loro ci soffermiamo molto di più su ogni cosa. Credo anche sui particolari, perché spesse volte noi ci sfuggono, perché li diamo per scontati, e quindi ci sfuggono e invece loro no, sono ben precisi, sono attenti, molto più di noi, quindi con questa loro capacità ci insegnano davvero a noi a vedere quelle cose che solo vogliamo. Sì, infatti l'idea è proprio quella di farlo vedere con occhi diversi, perché noi magari quando andiamo in giro guardiamo la globalità della cosa, senza soffermarci magari al particolare, allo scorcio, piuttosto che alla foglia, al fiorellino, a un uccellino magari che è appoggiato su un albero. Noi vediamo la globalità del paesaggio, bello, però non ci soffermiamo, se non c'è qualcuno che ci fa soffermare. E loro proprio fanno questo, quindi anche quando abbiamo fatto quest'estate le nostre passeggiate, che magari si camminava, ecco loro li vedi magari fermi, noi quindi torniamo indietro, diciamo cosa stai guardando lì? C'è una cosa che a noi al primo passaggio era sfuggita. Andiamo avanti. Andiamo avanti naturalmente mentre vi presentiamo questo progetto che è all'interno di un grande progetto che è Mete, a cui naturalmente possiamo contribuire tutti quanti. Andando sulla pagina Facebook dell'associazione Crescere ODV, c'è naturalmente la possibilità di cliccare lì e di entrare dentro la piattaforma, poi ve la facciamo vedere. Vediamo intanto però che cosa veramente questi ragazzi stanno portando avanti proprio come possibilità di conoscenza di un territorio grazie ai vostri contributi. Sì, poi proseguendo la nostra passeggiata per Subbiano, Subbiano ha anche dei musei e quindi siamo andati a visitare il Museo della Guerra e in questo caso praticamente hanno inserito, quindi con una giornata, da passare anche al museo, dove ci sono poi le fotografie di cosa ovviamente potrai trovare all'interno. E' chiaro che ti danno degli assaggi perché ti devono aumentare la curiosità. Non ti svegliamo tutto, però vedi già che cosa c'è, quindi uno è invogliato ad andare a visitarlo di persona. Così come il Museo della Lobbistica, che è un bellissimo museo, anche noi quando ci siamo andati ci siamo rimasti insomma abbastanza colpiti perché non ci aspettavamo all'interno, tante piccole cose diverse, diverse costruite anche da artigiani, da collezionisti che magari non sapevano di avere una così grande collezione, penso alla collezione delle Ferrari, che insomma quando io le ho viste pensavo sì c'è una collezione Ferrari, dieci macchinine, sono un'enormità e quindi anche lì ti trovi di fronte a un museo che ha veramente delle grandi potenzialità. Stessa cosa abbiamo fatto qui, quindi abbiamo messo le foto di quello che puoi vedere all'interno. La parte paesaggistica, Subbiano è lungo il fiume Arno e quindi anche il paesaggio ci dà le sue emozioni e le sue cose da vedere e cliccando anche sulle informazioni appare proprio la storia dell'Arno, quindi da dove nasce fino a dove, insomma il percorso che fa fino a dove va a sfociare. E anche qui ci sono le fotografie più belline degli scorci che abbiamo visto in una passeggiata organizzata proprio dall'associazione La Cornocopia che aveva fatto una passeggiata con un esperto faunista di andare a vedere gli uccelli che potevano essere presenti lungo l'Arno e quindi qui ci sono due ragazzi nella fattispecie Leonardo e Susanna che con il cannocchiale guardano quindi il fiume per vedere appunto se ci sono appunto degli animali lungo il fiume. Prosegue quindi con tutti i dintorni, perché ovviamente non c'è solo a Subbiano Paese ma è anche vasto il dintorno e qui c'è proprio una pagina specifica di un famoso blogger che andando a fare queste ricerche abbiamo trovato che 5-6 anni fa aveva fatto proprio un articolo bellissimo su Subbiano e su ai dintorni e quindi l'abbiamo messa a disposizione in modo tale che ricopra tutto il territorio. E ovviamente non poteva mancare la parte enogastronomica anche perché all'interno dei nostri ragazzi ci sono due particolarmente portati per la cucina che sono Davide e Filippo e quindi abbiamo scelto di mettere come ricetta il baldino anche perché a Sopra Subbiano ci sono i mulini di falciano che venivano utilizzati fondamentalmente per macinare quindi anche la farina di castagne perché c'erano gli essiccatoi e quindi abbiamo messo il baldino con la ricetta per chi lo volesse provare a fare. E si arriva poi alla conclusione quindi del lavoro dove c'è la fotografia appunto dei ragazzi che ringraziano ovviamente per l'attenzione che il turista, il curioso ha messo nel visionarlo e poi c'è la spiegazione di chi siamo il progetto nel dettaglio i sostienici e i link per agganciarsi a tutti i nostri social in modo tale che uno può andare a visitare sia il sito internet, la pagina Facebook, Instagram, il canale YouTube ma anche il nostro blog. E questo naturalmente è quello che con METE si riuscirà a fare naturalmente METE significa questo sostienici giusto? Si può cliccare? Vediamo Questo che è soltanto per il 2 E il 5 per 1000 Ricordatevelo perché questo è importante Anche questo è importante non abbiamo inserito qui la piattaforma perché poi ovviamente questi resteranno nel tempo e quindi poi la piattaforma non ci sarà Allora, intanto conosciamo Fabrizio Vieni di qua mentre qualcuno cerca la piattaforma perché facciamo vedere anche naturalmente questa piattaforma di METE dove voi potete naturalmente inserirvi Io voglio conoscere invece Davide giusto Davide? Si Quindi è una bella esperienza Davide Si, si bellissima Poi abbiamo Leonardo Leonardo, giusto? Leonardo ti è piaciuta, vero? Anche a te? Si Ecco, qui siamo naturalmente Leonardo e Filippo sono i due cuochi, vero? Filippo è lui Sì, Filippo, giusto? Davide sono i cuochi Esatto, i cuochi Qui è il nostro naturalista cioè è quello che fa la parte legata alla natura degli animali essenzialmente Poi ci sono le ragazze invece che controlla Tecla Federica, Francesca che mi viene a chiamare Checca perché noi la chiamiamo Checca e Susanna che fanno tutta la parte più turistica di scelta proprio estetica essendo femmine fanno proprio la parte di scelta proprio delle foto piuttosto che dei percorsi Esatto, credo che poi c'è Susanna che lei viaggia molto quindi Susanna è vero che è una bella esperienza è stata questa molto bella perché Susanna è abituata proprio ad andare in giro ovunque e allora a questo punto per lei è più semplice Per lei è più semplice poi lei lo fa anche dei suoi viaggi ha utilizzato questo sistema per fare i consigli di viaggio che lei si chiama la gira bombo tour perché le piace girare insomma è girellona e quindi quando fa i suoi viaggi poi ricostruisce e dà dei consigli in base a quello che lei ha visto insomma molto semplice La gira bombo tour è già abituata diciamo così con Susanna Abbiamo fatto le esperienze su di loro praticamente abbiamo usati come cavi all'inizio Bene, torniamo dall'altra parte e adesso andiamo a vedere come naturalmente possiamo fare questa donazione per sostenere questo progetto Mete Attenzione, noi abbiamo fatto vedere su Biano però non si ferma qui poi ci sono tutti i podcast Sì, ci sono tutti i podcast narrativi che adesso cominceremo a farli e saranno costruiti come se fossero delle interviste tra la voce dell'educatore che sarà la voce guida e la risposta che verrà data dal ragazzo ad esempio se io vengo a Subbiano che cosa posso vedere e loro ti fanno la storia quindi e alcune curiosità così come la narrazione di una ricetta la storia magari del fantasma del castello di Poppi piuttosto che altre piccole curiosità che verranno narrate e in questa narrazione verranno anche letti dei brani del libro di Ema Perodi sulla storia del Casentino quindi insomma a voci abbinate tra la voce del ragazzo e la voce dell'educatore che farà da guida Molto bello Allora richiamiamo qui vicino i nostri educatori perché sono sempre loro che questo progetto è grazie a loro naturalmente grazie anche a te come persona tu sei una stimolatrice un'inventrice esagerata cioè direi proprio che non si ferma mai è vero lei proprio così però poi ci sono loro che sostengono questo percorso dei ragazzi e quindi naturalmente li aiutano qui invece alla ricerca dei bandi alla ricerca naturalmente di progetti che possono fornire stimoli ai ragazzi naturalmente per crescere crescere si chiama crescere quindi per crescere sempre di più e adesso vediamo Faustina La piattaforma praticamente è la piattaforma della raccolta fondi Eppela se uno entra comunque dalla nostra pagina facebook c'è il link diretto ma anche dal sito dell'associazione c'è proprio un pallino con scritto Eppela basta cliccare e ci si va automaticamente altrimenti dalla piattaforma del coso basta scegliere il progetto mette per l'inclusione appare questa schermata dove praticamente c'è la parte nostra interna dove c'è il tasto dona ecco contribuisci quindi schiacciando sul tasto contribuisci appare praticamente le caselline quindi con quanto vuoi contribuire e quindi ci teniamo a dire che ogni contribuente praticamente ogni donatore avrà poi una ricompensa e le ricompense sono state scelte e realizzate dai ragazzi ad esempio se dono 10 euro avrò la cartolina virtuale quindi riceverai via email la cartolina con le loro firme in originali così se hai invece da donato 15 euro un attestato di buon donatore ma donando qualcosa in più ad esempio sempre con te avremo una locandina creata quindi un'infografia creata da loro su un posto che loro ti consigliano di andare quindi con delle piccole curiosità avremo anche un biglietto per un'esperienza guidata quindi con i ragazzi che ti faranno da guida quindi decideremo poi una data e tutti i donatori che hanno dato 30 euro verranno invitati a partecipare a questa giornata di spiegazione una ricetta tradizionale che è completamente illustrata dai ragazzi e colorata da loro fino ad arrivare a spasti insieme quindi faremo un tour con delle curiosità tutti insieme e arrivare a chi ha donato 60 euro in su a fare una merenda tutti insieme dove presenteremo proprio il risultato intero del progetto e condivideremo con tutti insomma loro cucineranno per voi e quindi sarà veramente una bellissima giornata oppure c'è l'offerta libera se uno vuole donare di più basta riempire gli spazi con il nuovo della carta e quant'altro e poi dare la conferma quando si arriva in fondo si dà la conferma quindi della donazione quindi è una piattaforma sicura perché è una piattaforma quindi di crowdfunding seria alle spalle c'è appunto la fondazione il cuore si scioglie di coppia e quindi non è rischioso neanche utilizzare la carta di credito e viene data viene mandata in automatico la ricevuta della donazione scaricabile anche da la 730 dichiarazione allora mete o mete per stare insieme per l'inclusione insieme all'associazione crescere come vedete questo qui è il sito ma andate la cosa più semplice andate su facebook oppure sulla pagina internet di crescere crescere odv basta che trovate mete per inclusione vedete subito la fotografia che c'è quella ci cliccate dentro e potete naturalmente scegliere di poter partecipare a questo progetto di inclusione che però è al servizio di tutta una comunità intera ma comunità non si intende solo su Biano dove si trova l'associazione crescere ma è la comunità molto più ampia dove viviamo sempre tutti quanti insieme cioè quella un po' del mondo perché ci apriamo veramente a tutti e loro sono sempre pronti a creare questo percorso vedete è pronto lì con la sua lui giusto? è pronto naturalmente con la bussola perché non andiamo mai fuori rotta con loro non vi preoccupate quindi vi aspettiamo con l'associazione crescere ODV con l'officina 104 noi siamo a Subbiano ma siamo nel mondo con l'inclusione grazie 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 grazie